4 milioni di euro per un progetto di messa in sicurezza e valorizzazione dell'area Rocchetta di Gualdo Tadino è quello che l'azienda imbottigliatrice di acque minerali con l'amministratore Maurizio Bigioni e l'avvocato Chiara Bigioni ha presentato in videoconferenza insieme all'assessore regionale all'ambiente e vicepresidente regionale Roberto Morroni. All'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che di fatto ha dato il via libera alla proroga della concessione l'azienda mette mano a un progetto che va ad intervenire sull'area della gola e su quella delle fonti devastate dall'alluvione del 2013 e mai risanate. Nei suoi punti salienti il progetto redatto dall'ingegnere Filippo Forlani va a riportare in superficie il torrente Feo che scorre interrato regimando le sue acque in modo da evitare in fase di piena un'esondazione devastante come quella del 2013. La realizzazione di argini e ponti carrabili per attraversarlo completeranno il tutto. Il progetto prevede la demolizione parziale dei capannoni di proprietà Rocchetta con realizzazione di un edificio a disposizione del comune di Gualdo Tadino per attività di ristoro, didattiche e di promozione dell'artigianato locale. La gola sarà accessibile solo a piedi lungo un sentiero che correrà parallelo alle condotte idriche che verranno nuovamente interrate. Ripristino delle fonti storiche con valorizzazione della basca, del grottino e dell'area intorno, previsto anche un parco giochi e avventura per bambini e ragazzi. Sul fronte squisitamente idrico per collegare il pozzo R6 da cui si preleverà acqua Serra Santa alla condotta principale di valle sarà realizzata una bretella di collegamento che passerà lungo l'attuale sentiero nel rispetto, ha detto l'ingegner Forlani, dell'ambiente intorno. Per l'amministratore di Rocchetta Maurizio Bigioni un'occasione di sviluppo per il territorio che porterà posti di lavoro nell'indotto turistico. Per l'assessore Roberto Morroni un'occasione da non perdere che insieme ai 750 mila euro stanziati dalla regione per il consolidamento del costone roccioso potranno finalmente restituire l'area della Rocchetta ai Gualdesi. Resta il nodo tuttavia della comunanza agraria Pennino Gualdese, gestore della proprietà collettiva che insiste sull'intera zona eccezione fatta per i capannoni di proprietà Rocchetta e che sia già detta indisponibile a parlare di questo piano di valorizzazione se prima non si darà seguito alle sue richieste su tutto il ritombamento degli attuali pozzi di attingimento. L'avvocato Chiara Bigioni ha specificato che il progetto farà leva sulla pubblica utilità e incolumità. L'assessore Morroni ha lanciato l'invito al dialogo stigmatizzando atteggiamenti di chiusura preconcetta. Su l'iter invece il progetto ora andrà al baglio del consiglio comunale di Gualdo Tadino e quindi realizzabile entro 9-12 mesi.